Presentata la lista dei candidati del PD a sostegno della candidatura al sindaco di Simone Calamai, attuale vice di Mauro Lorenzini a Montemurlo. E questa è una lista molto importante, mette insieme un'ottima squadra, sono uomini e donne che sapranno affrontare al meglio quelle che sorranno le necessità e i bisogni dei cittadini montemurlesi e del nostro territorio. È una lista che riesce a tenere insieme la continuità confermando e rinnovando l'impegno di alcuni consiglieri uscenti del PD con il rinnovamento e quindi l'inserimento anche di nuove persone che potranno dare tanta passione e tanta energia a servizio dei cittadini. La nostra volontà è quella di essere a disposizione dei cittadini e quindi vogliamo al massimo condividere con loro le nostre idee, il nostro progetto di governo. Polista Alberto Vignoli che ha anche presentato il programma del PD. L'obiettivo per i prossimi cinque anni sarà quello di andare ad affinare quei settori in cui si può ancora migliorare l'azione dell'amministrazione e soprattutto dare ai cittadini la sicurezza che continueremo a mantenere alto il livello degli standard dei servizi che come amministrazione offriamo a tutta la collettività, in particolar modo riguardo ai settori della scuola e il settore del sociale perché per noi l'attenzione ai bambini e l'attenzione agli ultimi, ai più bisognosi, sono sempre stati capisaldi della nostra agenda politica.